C'è la libertà di parola e fino a quando quello che stanno facendo bisogna agire adesso proprio perché questi robotizzati di persone che hanno formato in università neoliberisti, io sono uno che ho scelto da poco in università e lo dico con chiarezza perché le università sono pieni di conflitti di interesse e tutti, andate a vedere quanti soldi prendono dalle varie case farmaceutiche andate a vedere ormai dentro l'università ci sono baroni, tante volte anche massoni radicali lì che non cambiano i programmi che stanno formando una generazione di gente che non ha più un minimo di apertura mentale quando ho fatto rappresentante anche l'università quando si trattava di chiedere l'appello straordinario